In questo momento io mi sento di dare un messaggio di distensione, di stare tranquilli per quelli che sono i risultati che abbiamo oggi, però camminiamo a vista d'occhio, quindi non possiamo sapere quello che succederà pure fra 5 minuti. Oggi siamo tranquilli, quindi dobbiamo essere contenti che questi risultati che tanto aspettavamo sono dei risultati negativi.